Come dicevo, siamo una ben povera, dobbiamo dividere lo slide in due persone. Devo anche iniziare a ricordare che noi apriamo solo, poi vorrei che qualcuno salisse, insomma, quindi so che Nick è già lì che scarpizza, ha già pronti la sua cigar box, quindi direi che faccia un musettino tranquillo, poi vieni pure up here. Come dicevo, come dicevo, come dicevo, come dicevo, Salала Saluto Saluto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.